ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ragazzi dopo la mano di Sara Romana possiamo anche andare vediamo un po' qua ma qua c'è quello che abbiamo fatto prima il commento dopo la giostra che abbiamo le nostre spalle ti fa sbutellare proprio nel senso che ti fa uscire le butella guarda come si ferma sopra ma poi ora ma rifacciamola rifacciamola e portiamoci la macchinetta vieni vieni andiamo qua go 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.